Buon pomeriggio. Allora ragazzi, ringrazio Fabrizio che l'ha postato poco fa. Io ho visto che Ellen aveva postato l'avviso dei flussi partiti, io non lo so. Da quello che leggo da voi, qui di flussi non è partito niente. Per l'ennesima volta l'Inps mette una cosa, poi alla fine ne succede un'altra. Io vi avevo avvertiti, non dite che io vi avevo detto attenzione partiranno il 27 e poi non so come sono fatti. Il mese scorso sono fatti in un modo, questo mese sono tornati ancora indietro. Qui a tuttora sembra che di ricariche nisba, non ci sia nessuno che ha ricevuto la ricarica. Quindi continuate a controllare, potrebbero arrivare anche stasera, però è probabile che si slitti direttamente a domani. tanto per incasinare le cose. Ragazzi, non so, se qualcuno l'ha ricevuta me lo faccio sapere. Però vedo che la grande massa non l'ha ricevuta. Non è un problema da poco, però non è una cosa inaspettata. È già successo. L'organizzazione delle ricariche dell'Adi è quello che è, cioè è disastrosa. E vabbè, questi qua sono anche le conseguenze. Continuate a controllare, se le vedete comparire stasera, anche stasera tardi, iscrivetelo qua, avvisate anche gli altri canali. Altrimenti domani. Domani non so se anche la mattina o direttamente nel pomeriggio dovrebbero partire. Qui una volta che l'Inps teoricamente manda a disposizione a poste, toccherebbe a poste. Ma si è già visto, come ha fatto notare Bobby, che poste fa un po' i suoi maneggi sotto. E non solo poste. Le fa poste, le fa l'Inps, le fa anche il governo, che adesso in questo momento è impegnato a fare promesse da marinaio, perché ci sono le elezioni europee, per cui promettono di darti quelle cose che un mese prima hanno tolto, tipo i fondi al sud. Però te ne danno meno, per cui nel dubbio. Quindi noi ci risentiamo domani, sempre su questa cosa. e vi ho detto, speriamo, speriamo, sono le 5.20, speriamo che inizino. Buona serata a tutti.